Nuovi vaccini in arrivo, cosa si sa nei nuovi vaccini in arrivo? Come sono fatti? Che differenze ci sono rispetto a quelli già esistenti? Sì, dunque diciamo che innanzitutto il primo dei nuovi vaccini che verosimilmente ci verrà consegnato già in questo mese è il famoso vaccino della Johnson & Johnson. La Johnson & Johnson ha una tradizione nei vaccini preparati con il cosiddetto vettore adenovirale, cioè un virus di gorilla che non è capace di replicarsi negli esseri umani anche perché viene privato di una importante regione genetica. In questo virus viene inserito il DNA che corrisponde allo stampo per la famosa proteina Spike, questa proteina del virus SARS-CoV-2 che viene prodotta dalle nostre cellule e quindi poi espressa in superficie. Ricordiamoci che Johnson & Johnson ha una credibilità in questo terreno perché è la prima industria farmaceutica ad aver commercializzato un vaccino basato su questa tecnologia. Si tratta del vaccino contro il virus Ebola che è stato commercializzato nel dicembre 2019. Quindi diciamo il vettore virale porta il materiale genetico nella cellula, la nostra cellula produce la proteina ed ecco che poi la proteina viene riconosciuta dal nostro sistema immunitario come materiale non proprio e contro questa noi organizziamo una risposta immunitaria. Che è una risposta immunitaria che si avvale di diverse diciamo componenti, c'è una sensibilizzazione delle cellule T, cellule T che noi chiamiamo linfociti T naive, cioè cellule che non hanno mai incontrato nessun antigene e che da quel momento in poi saranno per tutta la vita dedicate a che cosa? A combattere la proteina del virus. Queste cellule T a loro volta coinvolgono in una diciamo quello che sembra un po' un'orchestra sinfonica altre cellule che producono invece anticorpi e poi c'è un terzo tipo se vogliamo di immunità chiamata immunità innata che fa riferimento a altri stipiti cellulari e questo va a completare una risposta diciamo immunitaria che ha una sua protezione, l'abbiamo potuta leggere già dai primi riscontri scientifici, una protezione contro le forme gravi di malattia che in generale va oltre il 90%, poi può cambiare da circostanza a circostanza considerando anche strati diversi di popolazione. Quindi questo è il vaccino Johnson & Johnson, ha due caratteristiche importanti, una che diciamo consta di una sola dose quindi in questo senso semplifica il processo di vaccinazione e l'altra che effettivamente può essere diciamo conservato e gestito in quello che è non più di un frigo da cucina, quindi è un vaccino che si presta per esempio moltissimo a essere gestito direttamente dal medico di medicina generale. L'altro, qui ci sono dei risultati che sono stati pubblicati e che in qualche modo sostanziano quello che è il livello protettivo di questo vaccino. C'è poi un altro vaccino che arriverà un po' più tardi, è un vaccino europeo, un vaccino tedesco che si chiama Curevac ed è importante per noi perché in fase di prenotazione l'Italia ha previsto di acquistarne 30 milioni di dosi, vaccino che verrà fatto in due somministrazioni e che assomiglia moltissimo ai già noti vaccini Pfizer, BioNTech e Moderna, ovvero che anziché il vettore virale ha un vettore caratterizzato da una particella lipidica, quindi sarà la gocciolina di grasso che veicola dentro il materiale genetico che codifica per questa proteina Spike e saranno sempre le nostre cellule a doverla produrre. Bene.